Un importante ritrovamento resa ancora più prezioso perché la sua consegna alla soprintendenza è frutto di quella responsabile e proficua collaborazione dei privati cittadini. Siamo tutti custodi di ciò che la storia ci ha consegnato, esclama l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Alberto Samonà, che poi ha aggiunto. Avrò il piacere di incontrare il dottor Lauricella, che ai nostri occhi è un testimone di bellezza. E' così che l'assessore si rivolge al cittadino che ha ritrovato nella zona archeologica di Gibilgabib un reperto, uno stampo in terracotta con fattezze femminili, molto probabilmente attribuibili a Persephone Core. Il significato è particolarmente importante perché un cittadino, nella fattispecie il dottore Francesco Lauricella, magistrato presso il Tribunale di Caltanissetta, studioso e appassionato di archeologia, in particolare studioso del nostro territorio, durante una passeggiata nei prezzi dell'area di Gibilgabib ha trovato questo importante reperto e prontamente mi ha avvisata e lo ha consegnato alla soprintendenza, proprio chiedendo che venisse reso fruibile. Questa è la ragione per la quale anche noi come soprintendenza lo abbiamo a nostra volta consegnato al Museo archeologico regionale. L'importanza come di Giove doppia, sia dal punto di vista della collaborazione dei cittadini che anche del ritrovamento, perché denota la realizzazione di manufatti di tal genere proprio qui a Caltanissetta. Il reperto pare sia databile tra la fine del VI secolo e gli inizi del V secolo a.C. Il suo ritrovamento, si legge infatti ancora nel comunicato dell'assessorato regionale, è particolarmente significativo poiché attesta la produzione in loco in serie di manufatti fittili connessi al culto di Demetracore. Il reperto, alto 9 cm e largo, circa 4,5 cm, è stato consegnato dalla soprintendente Daniela Vullo al direttore del Museo archeologico regionale di Caltanissetta, Luigi Gattuso. Dopo le operazioni di schedatura e inventariazione, sarà esposto nel museo tra i reperti provenienti dal sito archeologico De Magnale di Gibilgabib. Grazie a tutti.